Siamo ai titoli di coda, siamo ai titoli di coda, io vi voglio salutare con l'attacco che mi sta facendo Stasio adesso Con il suo TH12 Da poco il TH12, eh, precisiamo questa cosetta E niente, raga, raga, per me è stato bellissimo fare questa prima stream pomeridiana Ho conosciuto tante due persone, porca vacca, quanti ne siete, quanti ne siete, che com'io ne dice Che com'io ne dice, è bellissimo, siamo 101, abbiamo spaccato l'obiettivo Adesso ve lo puntiamo all'obiettivo salvo Ne manca una, ce la faremo, ce la faremo, sono sicuro che ce la faremo, sono sicuro che ce la faremo Sono sicuro, sono sicurissimo Dai, 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 intanto aspettiamo questa Questo attacco, attenzione, ma che è questa? È un lui, è un re Dio, non la so questa skin, non la conosco, non la conosco Non la conosco Intanto qui la queen sta volcando verso il cimento, colpo di scena Escono i miei, c'è il mio ragazzo Oh, infuriata la queen, la queen molto arrabbiata Attenzione, attenzione, il castello Oh, guarda là Che bestionina, che bestionina la queen Vediamo cos'altro fa Il re che sta facendo ancora il giro qui, mamma mia, ce la fa Ce lo farà tutto, si farà tutto il cornicione, il re Cos'altro fai? Dov'è il push? Dov'è il push? La regina sta pushando, madonna mia, il piccione non me lo fai attivare Non me lo farei attivare il piccione Porca vacca, che bestia, Stasio Stasio Mannaggia a te Ed ecco che parte Ed ecco che parte il push di la lune Con i mastini, con i mastini, con i mastini, mastini Guarda là Che prostata, coaglio Che prostata, che prostata Mamma mia Eh, lì ci ho lasciato qualche regadino Però era intuibile, insomma Tu mi hai pure abbastanza Controbilanciato con le puzze che hai menato Porca vacca, la mia inferno singola schiatta e addios Poi c'è quest'altra mongola che dice Fra, che dobbiamo fa? Madonna mia, chissà chi c'è qua dentro Eh no, te l'ho demati io, so che c'è, so che c'è, so che c'è Aspetta però, voglio vedere questo Bing Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Guarda il mio arco X, come dice No, fra, non mi butti giù E non mi butti giù E invece, invece cadrà E invece cadrà Un bel set, un'ultima cosa di saluto Ciao amore, ciao Alessio Buone cose, fai tutto, fai bella vita Fai bella... Mamma mia, che è qua sto devasto Che è sto devasto Che è sto devasto Madre mia, santissima Il push è andato Cioè, le mongole sul partire da qua Stanno ancora più di qua Ti voglio dire Ti voglio dire Che bestia sei Mamma mia Oh, ce ne sono altre Ce ne sono altre Ma che cosa... Cosa hai creato? Cosa hai creato? Che bestia... Hai svagato anche il... Porca vacca Madonna mia Madonna... Guarda con gli scary Dov'è... Dov'è l'ultima? Dov'è l'ultima struttura? Dov'è? Non la vedo Ah, eccola No Sì Sì Mi hai tristato Mi hai tristato Sei una bestia Sei una bestia L'avevo detto che sia un pro player L'avevo detto che sia un pro player Un fottutissimo pro player Ragazzi, io con questo 100% grandi successi di Stasio fatto al mio TH Vi lascio Vi auguro buona vita Possiate voi risvegliarvi domani Un bacio a zeccoso a zeccoso Punto esclamativo Telegram Per restare aggiornati sulla prossima live E... A presto belli Per restare aggiornati